Benvenuta cara sorella e benvenuto caro fratello per questo momento di culto, di lode, di riflessione che vogliamo vivere insieme. Cristo è risorto, questo era il saluto che i primi cristiani si rivolgevano vicendevolmente la domenica. Noi sappiamo che da quella lontana notte di Pasqua il coraggio è possibile e siamo qui per essere uomini e donne di coraggio, è possibile avere coraggio, siamo chiamati ad essere testimoni di un messaggio che riempie di coraggio e il termine coraggio, come sai, deriva dalla parola cuore. Avere coraggio significa avere un cuore, avere cuore per vivere, per amare, per lottare, per crescere e il coraggio è possibile perché Dio ti è accanto, non sei solo, non sei sola. Che questo tempo di culto dunque possa aprire il tuo cuore al coraggio. Il salmista dice benedici anima mia il Signore e tutto ciò che è in me benedica il suo nome santo, benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Ci vogliamo raccogliere un istante in preghiera. Signore grazie per questo nuovo giorno, grazie per il coraggio che ci vuoi donare in questa domenica, in questo giorno in cui ricordiamo la risurrezione di Gesù. Grazie per la parola che consola, che orienta la nostra vita. Grazie per il tuo perdono che guarisce, che ci risolleva. Grazie per la tua pace, pace nei nostri tormenti. Grazie per la tua forza nei momenti di difficoltà e di fallimento. Fa che tutto ciò che è in me, in ognuno di noi, possa benedire il tuo nome e non dimenticare alcuno dei tuoi benefici. Amen. Grazie per la tua forza nei momenti. Grazie per la tua forza nei momenti. Grazie per la tua forza nei momenti. Vogliamo dunque leggere il testo molto conosciuto di Genesi 4, il racconto di Abele e di Caino. Siamo proprio all'inizio, diciamo così, della vicenda umana. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. E avvenne dopo qualche tempo che avvenne dopo qualche tempo. E avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo grege e del loro grasso. E il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato. Il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino, perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai forse il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino, dove è Abele, tuo fratello? Egli rispose, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello. E il Signore disse, che cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca, per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Allora Caino disse al Signore, il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto, lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, così chiunque mi troverà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse, ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte più di lui. E il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Poi conobbe sua moglie che concepì e partorì Enoch, quindi si mise a costruire una città a cui diede il nome di Enoch dal nome di suo figlio. Vedi, cara sorella e caro fratello, cara amica, caro amico all'ascolto, noi di solito iniziamo in molte nostre chiese il momento della predicazione, che è un momento centrale, dicendo cari sorelle e cari fratelli. È una consuetudine, io lo dico al singolare spesso, ma lo si può dire al plurale. Forse oggi, davanti al testo che abbiamo appena letto, è difficile dire caro fratello e cara sorella, perché sappiamo bene che a volte i fratelli e le sorelle non si amano, come ci viene raccontato in questo testo della Genesi. Anzi, qui il racconto ci dice che i primi due fratelli, la prima coppia di fratelli, ha prodotto una tragedia. Uno ha ucciso l'altro. La gelosia, l'invidia di Caino nei confronti di Abele lo ha spinto ad uccidere, a cancellare l'unico fratello che aveva. Meglio solo che con lui. Meglio solo che con Abele. Da solo starò bene, mentre lui, parafrasando Sartre, lui è il mio inferno. Sai che Jean-Paul Sartre diceva, l'altro è il mio inferno. Ecco, Caino ha pensato, Abele è il mio inferno. Terribile. Cioè, essere fratelli può trasformarsi subito in un essere nemici. Fratello uguale nemico. Terribile ma vero, perché ovviamente le storie dei primi capitoli della Genesi, come sappiamo, parlano della nostra sottoria. Sono le rappresentazioni, diciamo così, delle nostre relazioni. I due, Caino e Abele, crescono rimanendo sostanzialmente estranei l'uno all'altro. Uno fa l'allevatore, Abele, cresce le pecore, l'altro Caino fa il contadino, fa l'agricoltore. E fra loro, come spesso succede, non c'è dialogo. Ognuno fa il suo lavoro ma non si parlano. Sono diversi. E la diversità andrebbe bene. La diversità può essere una benedizione addirittura. Se però si mantiene un dialogo pieno. Invece non si spiegano. Non si parlano e non si capiscono. Soprattutto Caino non capisce quello che sta succedendo. Non capisce il perché Dio dovrebbe gradire di più il dono di Abele rispetto al suo. Tutto sarebbe superabile se ci fosse un chiarimento. Se ci fosse una relazione, vedi. Se invece c'è silenzio, se c'è impossibilità di dialogo, il risentimento aumenta e alla fine rischia di tracimare nell'odio. C'è una sottigliezza, in realtà, se hai voglia di rileggere questo testo. C'è una sottigliezza che qualche commentatore segnala. Il fatto che il termine fratello sia diverso per Abele e per Caino. Il testo dice Eva partorì Caino e poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele, fratello di lui. Caino è fratello di Abele, per Abele. Ma Abele non è detto che sia fratello per Caino. Cioè non c'è reciprocità. Abele considera Caino suo fratello, ma Caino non lo considera fratello, lo considera un potenziale nemico. Non basta avere un fratello per essere il fratello di qualcuno. Questo è chiaro. La diversità rischia di diventare estraneità, dunque. Mi sei estraneo, anche se sei mio fratello. Sei una persona completamente distante da me. Il legame di sangue, noi lo sappiamo, conosciamo tutti, delle storie anche tristi molto spesso. Il legame di sangue non rende fratelli e sorelle automaticamente. Anzi, può essere un elemento che peggiora la relazione. Può rendere invidiosi, può rendere risentiti e nemici, insomma. Allora, perché però si arriva addirittura all'omicidio? In questo caso, la storia ci dice, sembra che sia a causa di Dio, che accoglie con favore l'offerta dell'Uno, di Abele, e non esprime la stessa gratitudine nei confronti dell'offerta di Caino. Il male però non è in questo. Il male è nel fatto che Caino fa il paragone. I paragoni uccidono, letteralmente. Io che credevo che la mia offerta fosse migliore, la più preziosa agli occhi tuoi, Dio mio, invece vedo che tu preferisci quella di mio fratello. Caino è ferito da questa situazione che ritiene ingiusta. La diversità, la diversità, ecco che cosa possiamo imparare. La diversità, anche la diversità davanti a Dio è incomprensibile per Caino. Come succede spesso fra di noi. Perché io sto male e mio fratello sta meglio di me. Perché io sono forse più povero di mio fratello. Perché sono nato in una periferia degradata o in un campo nomadi dove per campare bisogna fare di tutto e invece c'è l'altro, il figlio del mio vicino, che nasce in un ambiente assolutamente agiato, se non ricco. Perché, perché, perché? Quando ci sono queste domande e c'è il paragone, le storie finiscono sempre male. Si fa presto a dire che dovrei accontentarmi, che dovrei vedere anche le cose positive che ci sono nella mia vita, che non dovrei sentirmi offeso e risentito. No, a me l'unica cosa che interessa in questo momento, dice Caino, è il fatto che l'offerta di Abele è stata gradita più della mia. E davanti alla diversità non c'è molto da dire. Dio non la spiega, il testo non la spiega assolutamente. Dio non spiega il perché dei due diversi trattamenti. L'enigma rimane tale, va assunto, va accolto. Ma Dio parla subito a Caino, parla subito dopo a Caino. Non lo lascia solo nel suo risentimento. Perché sei irritato? Gli chiede. Perché il tuo volto è così abbattuto? Fai attenzione, il peccato ti sta spiando alla porta. Tu cerca di dominarlo, di gestirlo, di governarlo. Insomma, è immediatamente chiaro che Dio non ha abbandonato Caino. Dio ama Abele e ama Caino, anche se li considera diversi, anche se sono diversi, gli parla immediatamente. Anche se Caino non ha capito l'agire di Dio, Dio continua a parlare con Caino. E ci sarà presto un'altra possibilità per lui. Anche se a volte io non capisco l'agire di Dio, perché non sempre lo capisco, e posso anche protestare nei confronti di Dio. Ebbene, devo sapere, questo testo me lo dice, che Dio invece comprende me, comprende il mio dramma, mi mette in guardia. Il paragone deve essere messo da parte, dice Dio a Caino, perché il paragone porta sempre alla morte, lo ripeto. Dio non mi ha dimenticato. E poi succede ciò che succede. Il dramma, un momento di rabbia ancora più forte di quello dei giorni precedenti, Caino uccide Abele mentre sono nei campi. Caino adesso fugge. Caino è costretto a fuggire. Non ha più riposo, non ha più tregua, sa benissimo che dovunque andrà sarà raggiunto dalla fama dell'omicida che ha ucciso suo fratello e verrà ucciso a sua volta. Ed è ancora qui che Dio invece interviene, perché Dio non conosce mai la condanna a morte per i suoi figli. Nessuno tocchi Caino, lo conosce, è lo slogan di tutti coloro che si battono contro la pena di morte. Nessuno tocchi Caino, dice Dio, che protegge e che proteggerà sempre Caino. La vita di Caino non sarà più la stessa, sarà una vita faticosa, ma sarà una vita difesa, protetta. Abele non ci sarà più, ucciso dall'atteggiamento che ci porta sempre a fare paragoni e che crea in noi risentimento. Caino sarà solo, dovrà girare per il mondo solo, ma sarà protetto da Dio. Dio mette un piccolo segno sulla fronte di Caino, un segno che ci ricorda che Dio ha fatto comunque un patto con questa umanità, un patto che non verrà mai meno malgrado tutti gli omicidi del mondo. Questo assassino, questo primo omicidio della storia, ha ancora un avvenire per Dio, avrà ancora un avvenire. Infatti si sposerà, come ci dice il nostro testo, avrà una compagna, avrà un figlio e la storia proseguirà. C'è una discendenza, cioè c'è un futuro, c'è un futuro per Caino. Adesso Caino può capire finalmente che Dio lo ama comunque perché porta, malgrado il suo peccato pesante, il segno del suo amore e della sua protezione. Che senso ha tutto questo? Che possiamo accettare a volte anche le cose che non sempre comprendiamo. Anche quando Dio non sembra volercele o potercele spiegare. Dobbiamo chiederci se possiamo accettare le cose che appaiono illogiche a volte, a volte ingiuste, e se possiamo imparare a vivere accanto all'altro che è mia sorella e che è mio fratello, sapendo che Dio ama lui, ama lei, ma ama anche me e non mi dimentica e protegge, custodisce la mia vita. Possiamo andare avanti sapendo che mio fratello non mi assomiglia e non ne capisco il perché, ma posso accettarlo, confrontarmi con lui e chiedere anche a Dio la ragione dell'enigma della differenza. E poi posso vivere con lui, possiamo vivere insieme perché siamo fratelli, perché siamo sorelle, perché siamo figli e figlie dello stesso Dio. Amen. Dio, Succulpa la natura, il sol da dove brillo, con la sua luce pura, di me excedente amore, bravazio mio Signore. Bravazio mio Signore, quando fesso esgraciato, col dono di Gesù, mi libera tu. All'or che pesca parli, al rosso del peccato, il santo tuo figlio, in cruce cui non amo, di me excedente amore, bravazio mio Signore. Gravazio mio Signore, quando il fuoco divino, che me la tua bontà sia accese per il tuo cuore, sto per il secolo di Cielo, alla vita la vita, e me cura tua voce, da sangriio che non amo, ma il fuoco divino, in me excedente amore, bravazio mio Signore. Ci raccogliamo adesso un momento in preghiera. Signore Dio nostro, la Tua parola ci ha detto ancora una volta il Tuo amore per il mondo, per tutti i fratelli e per tutte le sorelle che vivono su questo nostro piccolo pianeta. Insegnaci a rimuovere dal nostro cuore ogni traccia di paragone. Dacci la certezza che la diversità è un dono, non una maledizione, anche davanti a te. Ti preghiamo per le persone che non hanno potere, ti preghiamo per quelli che non riescono a far ascoltare dagli altri la loro voce, per coloro che fuggono davanti alla forza dei potenti e dei prepotenti. Ti preghiamo per le persone che conoscono soltanto la guerra, a volte da quando sono nate o nati. Ti preghiamo per gli artigiani della pace, fa che possano non conoscere mai la rassegnazione. Ti preghiamo per coloro che sono in buona salute, che vivono in modo spensierato, fa che non si preoccupino unicamente del loro corpo e della loro salute, ma che si guardino attorno. E ti preghiamo per gli ammalati che vivono nell'angoscia della sofferenza, della solitudine, della morte. Ti preghiamo per tutti e per tutte noi e per il nostro mondo, quel mondo per il quale Cristo è morto ed è risuscitato. E ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha detto di pregarti dicendo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sorella e fratello, nel momento in cui prendiamo congedo, anche a distanza, attraverso questa radio che ci ha accolto, noi vogliamo ricevere una parola di benedizione dalla parte di Dio, che Dio possa camminare sempre davanti a te per indicarti la strada, sorella e fratello, che Dio possa camminare accanto a te per sostenerti, possa camminare dietro di te per proteggerti, che la sua grazia e la sua pace ti siano date, oggi e sempre. Amen. Grazie a tutti.